dunque iniziamo buongiorno a tutti voglio ringraziare tutti i partecipanti eh le istituzioni presenti eh gli stakeholder che in questi due anni hanno partecipato ai nostri incontri eh gli ospiti internazionali e in particolare il comune di Cassano ehm all'Oionio che ci ha ospitato nella sua sede e negli ultimi due anni gli amici della terra hanno collaborato assieme a quattro partner provenienti da diverse aree del Mediterraneo e del Mar Rosso al progetto Med for EBM un progetto di partenariato finanziato dal programma europeo Eni eh CBC Med eh che ha convolto quattro paesi come ho detto l'Italia il Libano la Tunisia e la Giordania eh questo progetto ehm ha due scopi principali il primo ehm è quello di oggi mostrare i primi risultati ottenuti dalle aree target del progetto che sono il Golfo di Corigliano in Italia la riserva di tiro in Libano il Golfo di Acaba in Giordania e le isole Cneis in Tunisia ehm in queste aree si è lavorato in questi anni in questi due anni con lo scopo di integrare metodi e strumenti proprio della gestione ecosistemica nelle politiche di pianificazione e gestione del territorio eh un obiettivo molto ambizioso che stiamo perseguendo con l'aiuto di strumenti innovativi e protocolli applicativi specifici che i relatori delle sessioni in programma ci mostreranno nella giornata di oggi e domani in dettaglio eh l'altro obiettivo ehm principale di questo evento di oggi è quello di lanciare ufficialmente il forum mediterraneo per la gestione ecosistemica applicata che avrà sede che avrà sede presso le riserve del lago di Tarsia e della foce del fiume Crati e che ha l'ambizione di diventare uno strumento permanente del territorio in cui amici della terra i partner del progetto e l'intera rete degli stakeholder rappresentata potenzialmente anche dalle persone presenti in sala oggi scambieranno con continuità idee proposte progettuali esperienze sull'applicazione della gestione ecosistemica offrendo inoltre servizi di consulenza e informazione eh uno dei temi che affronteremo eh sarà proprio la futura sostenibilità del forum che dovrà radicarsi nel territorio stabilire una governance e avere la capacità di attrarre fondi finanziamenti e trovare i fondi necessari per proseguire la propria attività una volta eh concluso il progetto e quindi eh il nostro auspicio è proprio quello che eh insomma il forum possa continuare e possa radicarsi eh eh quando il progetto sarà finito ehm io a questo punto lascio la parola al sindaco eh Giovanni Papasso eh che lo ringrazia ancora perché ci ha messo a disposizione questa sede eh le do la parola grazie grazie buongiorno a tutti grazie a lei per avermi dato la possibilità di poter intervenire in questa eh manifestazione eh ad alto stile ad alto livello che prevede anche la partecipazione che veda la partecipazione di ospiti internazionali ma prima di ogni altra cosa mi consenta io devo ringraziare gli amici dell'associazione Telis a cui noi pochi giorni fa abbiamo consegnato questa sala che era abbandonata c'è stata una gestione straordinaria del comune eh e in quella fase tutto è stato abbandonato noi abbiamo chiamato gli amici di Telis in particolar modo Ercolino Cimbo che abbraccia affettuosamente abbiamo detto c'è questa bella sala perché non la rendete viva la ripulite eh vivace e beh la prima uscita è veramente meravigliosa quindi grazie a Telis e soprattutto grazie a voi che avete scelto eh per come sede del vostro incontro e del vostro form il comune di Cassano ci sono anche ospiti internazionali che saluto affettuosamente a nome mio personale a nome dell' amministrazione che ho l'onore di presiedere e qui sono rappresentante della giunta municipale c'è anche il presidente del consiglio comunale ma soprattutto il benvenuto a nome dell'intera città di Cassano io sono il sindaco e ovviamente parlo bene il mio comune ma lo faccio perché è vero quello che sto per dire oltretutto dottoressa io amo il mio comune profondamente e se non fosse così non potrei fare il sindaco voi siete a Sibari qui ancora si ode l'opopea della antica Sibari a pochi passi da noi c'è il parco archeologico di Sibari per il quale noi ci stiamo battendo anche il riservo partecipato ad un incontro affinché possa diventare patrimonio dell'UNESCO a pochi passi ancora c'è il museo nazionale della Sibaripide dove è custodito il toro cozzante che io dico fa il paio con i bronzi di riace in questi giorni si festeggia il cinquantesimo anniversario dal ritrovamento dei bronzi di riace una grande scoperta un grande ritrovamento che noi valorizziamo eh con un grande eh senso di apprezzamento ma naturalmente io valorizzo il mio territorio quindi il toro cozzante che ci porta diciamo nell'antichità a quelle che è l'antica Sibari dovete sapere perché parliamo di terra dobbiamo parliamo di prevenzione che qualche anno fa c'è stato l'estendazione e crate e quel parco eh archeologico è stato invaso da fango e d'acqua beh noi ci siamo mobilitati per ripulirlo per riconsegnarlo ai fruitori ai visitatori ma soprattutto abbiamo tutelato il crate con un'opera dove abbiamo speso circa cinque milioni di euro per realizzare infrastruttura a passo con i tempi un'opera di ingegneria ingegneria ambientale che sta dando i suoi frutti e poi il parco la la riserva naturalistica del crate senza eh con orgoglio lo voglio dire credo che le precedenti amministrazioni nel loro programma non hanno mai messo la valorizzazione naturalistica del 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 crati con il direttore Agostino Brusco siamo abbiamo instaurato un rapporto di profica collaborazione e stiamo dicendo che partiamo da lì per eh valorizzare l'intero territorio comunale e non non a caso insieme abbiamo pensato di realizzare proprio qui a Sibari il museo del mare che spero a breve possiamo eh aprire possiamo mettere a disposizione dei fruitori noi siamo un'amministrazione che sta lavorando da due anni e mezzo e sul territorio stiamo facendo tantissimo ci siamo qualificati ci vogliamo continuare a qualificarci ancora di più per la tutela dell'ambiente e stiamo facendo la lotta all'amiando e abbiamo censito eh stiamo facendo il registro di tutti gli immobili che hanno eh diciamo la presenza di amiando in questi giorni abbiamo affidato i lavori per demolire qui un campo di bocce che era coperto proprio con amiando per dare una come dire una un impegno una testimonianza soprattutto ai cittadini che il pubblico da questo punto di vista fa la sua parte qui vicino c'è una grossa azienda dottoressa che è stata realizzata dal da un gamorrista adesso è diventata pubblica di proprietà del comune lì pensiamo eh di realizzare il nuovo cimitero del comune di Cassano Ionio ed è coperta tutto da miando questa realizzazione serve per dare un'infrastruttura nuova alla nostra comunità ma allo stesso tempo eliminare l'amiando che che c'è eh in quella in quella azienda noi siamo un comune rivierasco voi fra poco parlerete parlerete della tutela della delle coste quindi del del mare abbiamo sei impianti di depurazione con orgoglia così lo posso dire stamattina che noi per tutte sei impianti di depurazione abbiamo il certificato allo scarico funzionano tutte perché il nostro impegno è quello della tutela della difesa del mare che è la nostra industria tra virgolette perché noi viviamo di turismo e di agricoltura e quindi noi dobbiamo avere un ambiente sano ma anche un mare sano pulito per ospitare i nostri eh turisti con orgoglio vi posso dire stamattina che sono arrivato sindaco e la differenziata Cassano era a quarantacinque per cento questo era dicembre dell'anno duemiladiciannove oggi siamo a settanta per cento quindi abbiamo eh garantito la raccolta differenziata anche nei centri turistici dove non veniva raccolta anche nelle case sparse noi andiamo e ogni giorno c'è l'uomo dell'attezza urbana che va a prelevare i rifiuti. In questi giorni ci stiamo qualificando e l'abbiamo fatto soprattutto qui a Sibari due giorni fa per la lotta all'abusivismo edilizio quindi la tutela dell'ambiente mediante la demolizione di ciò che era stato realizzato sul suolo pubblico. Abbiamo demolito qui a Sibari avantiere quindici alloggi abusivi realizzati sul suolo pubblico recuperando quindi quel suolo che noi già abbiamo messo a disposizione del pubblico e proprio ieri ho avuto un contatto con il commissario regionale dell'Ater per dire abbiamo io ho abbattuto mi sono assunto le responsabilità il suolo l'abbiamo recuperato però adesso vediamo cosa fare per organizzarlo per ripulirlo per mettere a disposizione eh soprattutto dei più piccoli quindi un'operazione di tutela ambientale ma anche di restituzione alla alla diciamo alla gente al pubblico di ciò che era stato occupato siete come ho detto in un comune che ha sette chilometri di costa la spiaggia dorata di Sibari ci sono eh dei villaggi turistici altamente qualificati soltanto sul nostro sul territorio del nostro comune ci sono settemila posti letti immaginate ciò che diventa Sibari a luglio ed agosto e poi abbiamo come detto prima un'agricoltura specializzata i casali man mano che si sale verso il centro storico le termi Sibarite e poi la basilica cattedrale a Cassano c'è stato nel ventuno giugno duemila e quattordici la visita di Papa Francesco ho avuto il piacere e l'onore di eh accogliere il Papa Francesco è stato un incontro speciale meraviglioso perché poi il Papa è stato qui a Sibari nella spionata di Sibari dove ha celebrato la presenza di duecentocinquanta mila persone devo dire con orgoglio che il Papa in quella eh tutto funzionò bene però il Papa in quella circostanza oltre a scomunicare i mafiosi disse una cosa bella importante ha detto ai giovani non fatevi rubare la speranza io credo che anche oggi si lavora siamo qui tutti quanti insieme per non tradire la speranza dei giovani che dobbiamo lavorare per tutelare il nostro ambiente fare questi forum sempre di più eh per per tutelare ciò che il creatore ci ha donato eh siamo un comune eh ospitale che fa delle integrazione ci sono rappresentanti paesi stranieri noi abbiamo eh diciamo ospitiamo tante tante persone che arrivano da paesi stranieri si sono fortemente integrate nella nostra comunità per me questo è il motivo di orgoglio e divanti so che la sto facendo lunga non devo più allungare grazie a lei benvenuto a tutti quanti con orgoglio vi abbraccio eh con grande affetto e vi auguro un buon lavoro buon lavoro grazie grazie sindaco per le sue belle parole per il suo coraggio anche ehm dunque io adesso passo la parola ad Agostino Brusco Agostino Brusco è ehm come tutti sapete il direttore delle riserve tarsiacrati che sono delle riserve regionali gestite dagli amici della terra e ed è proprio questo il motivo per cui abbiamo deciso di eh fare questo progetto eh nel golfo di Corigliano ehm non perdo altro tempo di lascio e faccio partire il video vediamo se funziona tutto perché in questi casi si chiedono di non di andare un volenti per la traduzione simultanea ok un benvenuto a tutti voi partecipanti in presenza e in diretta un ringraziamento particolare alla presidente ingegnere Monica Tommaso e alla direzione nazionale degli amici della terra per la scelta di promuovere in quest'area della Calabria il golf di Corigliano questo progetto sulla gestione integrata delle aree costiere punto finalizzato come dicevano a sviluppare modelli applicativi sulla conservazione e sulla gestione sostenibile della fascia costiera in questa parte di territorio del Marionio sfoci il Crati il più importante fiume della Calabria dove un lungo dove un lungo dove lungo il suo percorso eh circa ottantadue chilometri nel millenovecento e sono state istituite su proposta degli amici della terra due importanti riserve naturali regionali il lago di Tarsia localizzata a metà percorso e la foce del fiume Crati nella parte terminale e del fiume oggi anche zone speciale di conservazione per la rete natura duemila della direttiva comunitaria habitat novantadue quarantatré cei il Crati oggi rappresenta uno dei pochi fiumi del Mediterraneo le cui acque trasportando tonnellate di pietre e limo permettono a questo mare di di Calabria di mantenere in vita una lunga e solida spiaggia una delle poche che continua a crescere difendendo dalle acque marine non solo il territorio e le città ma anche una straordinaria biodiversità che in questo luogo si manifesta la foce del fiume Crati costruisce il più importante ambiente di transizione della Calabria dove l'acqua dolce si mescola a quella salata creando un ecosistema unico particolare dando vita a un mosaico di habitat diversi quali canneti stagni e lagune isole sabbiosi bosche allagate e ripariali aree dunali e retrodunali che danno specialità a centosettanta specie di fauna vertebrata a centotrenta specie di invertebrate e vertebrati pesci nell'area marine di transizione e quattrocentosettantanove tax di flora specifici e sottospecifici. Interessante anche le specie botaniche acquatiche rilevate che sono quarantatré di cui diciotto macrofite e venticinque microfite mentre sessantadue sono i generi di fitoplacton. Molti di esse come gli studi all'attività promosse dall'ente gestore hanno dimostrato nuove per la biodiversità della Calabria. La considerabile valenza ecologica di questo territorio della foce del Crati che rientra nei comuni di Cassano Loionio e di Corigliano Rossano è testimoniata dalla presenza di diciassetti abitati di interesse comunitario di cui quattro prioritari. La macro categoria più ricca è quella delle dune marittime delle coste mediterranee all'interno della quale sono inquadrabili quattro diversi abitati rilevati. Nel complesso nella zona costiera inclusa nella ZSC e nella riserva sono stati rinvenuti sei diversi abiti attunnali corrispondenti al cinquantacinque per cento di quelli presenti in Italia e al settantacinque per cento di quelli presenti nella nostra regione in Calabria. Interessante, il bosco igrofilo di pianura è una reliquia di antiche foreste che ricoprivano vaste aree di questo territorio. È stato definito questo bosco dalla comunità scientifica internazionale uno dei rari lembi di foresta mista planiziale in dinamica naturale nel bacino del Mediterraneo. Importante il contributo che queste due aree ma anche la foce e il lago danno alla conservazione delle specie di interesse comunitario diciamo della rete natura duemila. I manutoreggi contotti dall'ente gestore delle riserve hanno accertato la presenza di settanta specie di interesse conservazionistico di cui sessantasei comprese negli negli allegati dell'attiva abita che uscede della comunità europea che rappresentano il quarantacinque per cento di tutte le specie censite in Calabria. Stiamo parlando di due piccole aree eh il lago di Tarsi è quattrocento quaranta ettari e la foce e la ZSC duecentotrenta ettari. Nelle due in queste due ZSC e nelle due riserve appunto è stata accertata la presenza del cinquantuno per cento dei mammiferi, del quarantasei per cento degli uccelli, del cinquantasei per cento degli ambibi e del sessantasette per cento dei retteli di interesse comunitario. Oltre alla fauna molto numerosa eh sia per diversità che per eh per quantità tra le specie faunistiche di elevato valore naturalistico presenti alla foce del fiume Crati è da citare la presenza del cavalluccio marino comune e del cavalluccio marino camuso. Entrambi le popolazioni che vengono ritenute a massima densità per tutto il Mediterraneo. Sono delle specie atipiche per gli ambienti di transizione come la foce del Crati tant'è che una contazione simile è segnalata solo per delle popolazioni portoghesi localizzate nella laguna di Ria Formosa nell'oceano atlantico. Come eccezionale eh questa di pochi giorni pubblicati i dati il ritrovamento di eh di tre esemplari di Ampletus Bruneus è un quale otto molto raro e localizzato da ambienti costieri noto in Italia grazie a due soli ritrovamenti uno alla fine dell'ottocento in Calabria senza indicazione della località che attualmente è conservato eh nel presso il museo di storia naturale di Paligi e nel milottocento e in Sicilia. Nessun altro esemplare di questa rarissima specie risulta finora segnalato per l'Italia dopo il milottocento e novantatré a parte i tre esemplari rinvenuti nell'ambito di questo studio condotto dall' intergestore alla foccia del crati. Infine eh questo è molto importante segnalare eh l'importanza che la foccia del crati svolge per l'intero comprensorio marino non solo un'area di ripopolamento ma anche la fonte alimentare per tutta la fauna ittica del dell'altoionio cosentino. Questi dati sottolineano in modo evidente l'importanza ecologica delle riserve e della ZSC e il ruolo che essi rivestono per la tutela della biodiversità regionale e per una corretta gestione sostenibile della fascia costiera. Ho voluto presentare un po' la riserva e questo straordinario patrimonio eh naturalistico eh culturale anche culturale e che la foccia del crati eh riveste. Saluto l'onorevole Comune Coppaterra direttore generale dell'ARPA Calabria ma anche presidente del Parco Nazionale del Pollino uno dei parchi come dicevo ieri agli ospiti internazionali più grande d'Europa. Eh vado a concludere eh questo questi dati coespresso sono dati che fotografano e in modo evidente eh il patrimonio eh che abbiamo in questa in queste due in queste due riserve la focia e il lago patrimonio che testimoniano da questi dati due piccole riserve ma che detengono un capitale naturale di circa il cinquanta per cento del capitale naturale di tutta la regione Calabria. Io vi ringrazio ringrazio la presidente l'ingegnere Moneta Tommaso la direzione nazionale ringrazio tutti voi che seguite in diretta ma anche quelli collegati in via streaming. Grazie ancora. Grazie. Grazie Agostino e grazie veramente per il lavoro che che fai. Ehm per noi è un direttore insostituibile Agostino Brusco. Va bene. Allora io a questo punto eh do la parola al dottor Domenico Pappaterra eh direttore manteniamo ah no no ehm direttore delle di ARPACAL l'agenzia eh per l'ambiente della regione Calabria e come diceva Agostino anche direttore del presidente del parco del Pollino. Ehm per noi le agenzie ambientali sono una parte importante delle politiche ambientali e ci auguriamo quindi una collaborazione con l'agenzia e e insieme al progetto naturalmente eh ci auguriamo che possa dare dei frutti insomma importanti e uno scambio importante anche di informazioni e di dati. A lei la parola dottore. Grazie eh innanzitutto buongiorno a tutti e vi chiedo scusa innanzitutto del ritardo con cui sono arrivato ma ho avuto un contrattempo stamattina l'avevo comunicato alla vostra presidente a Monica Tommasi che saluto e che ringrazio per questa bella opportunità che che mi date ovviamente qui sono a Sibari in una delle terre più belle di questa nostra regione o del nostro mezzogiorno d'Italia quindi ho il dovere di salutare il mio carissimo amico e compagno di tante battaglie il sindaco di Cassano Ionio Gianni Papasso che peraltro diversi anni fa quando io ho svolto le funzioni di assessore regionale all'ambiente in Calabria eh è stato uno dei miei più preziosi collaboratori poi naturalmente eh Gianni ha fatto come era giusto che fosse la scelta di mettersi al servizio della sua comunità qui a Cassano lo sta facendo con grande passione con grande impegno ma soprattutto con tanti ottimi eh risultati e quindi anche quest'area che come sapete non è poi solo mare qui ci sono i grandi scavi ci sono questa straordinaria agricoltura diffusa che insomma rappresentano un patrimonio inestimabile eh voglio salutare anche io l'ha fatto prima Monica ad Agostino ad Agostino Brusco Agostino è fatemelo dire uno dei vostri perni qui in Calabria perché anche lui svolge il suo lavoro con una determinazione con un devo dire anche con grande professionalità e nel sistema delle aree protette calabrese sia quelle terrestri che quelle marine essendo lui direttore qui della riserva della foce del fiume Crati e del lago di Tarsia Agostino è uno di quelli come dire che svolge una funzione fortemente stimolatrice diciamo rispetto alla tutela della biodiversità alla conservazione di alcuni habitat al come dire alla valorizzazione delle aree protette calabrese eh fatta questa premessa io ovviamente sono qui per diciamo due ragioni la prima per dire che questo progetto e bm per la gestione integrata delle zone marine costiere che eh l'associazione amici della terra con una serie di partner anche internazionali e che saluto gli amici della Giordania gli amici della Tunisia gli amici del Libano eh è un progetto verso il quale noi nutriamo grande attenzione c'è stato un incontro molto importante a livello regionale nei giorni scorsi e so che domani eh sarà qui il mio direttore scientifico il dottore Iannone proprio per approfondire le ragioni di un'eventuale collaborazione anche più stretta perché come sapete le ARPA hanno una funzione che deriva non solo dalla legge regionale naturalmente che l'ha istituita e fatemi dire con orgoglio Gianni te lo ricordi quella legge porti il mio nome perché era rimasta Monica l'unica regione alla fine degli anni novanta che ancora dopo il transito dai famosi presidi multizionali eh di di prevenzione era rimasta l'unica regione a non dotarsi della legge noi la facemmo e quella legge ancora vive di fatto è stata modificata solo in piccole parti e poi il duemila e sedici come sapete tutti c'è stata la grande rivoluzione dell'istituzione del sistema nazionale di protezione ambientale in Italia al quale appunto partecipano le ventuno ARPA italiane più ovviamente l'ISPRA che come sapete l'istituto di ricerca scientifica ed ambientale in primis del nostro del nostro paese ed è evidente che il legislatore a noi ci ha assegnato anche dei compiti più stringenti uno dei uno dei quali appunto è quello di mettere in campo forti azioni di monitoraggio e forti azioni di diffusione di dati la piattaforma che voi state creando ovviamente limitati in questa fase al golfo di Corigliano naturalmente perché il progetto non poteva riguardare un'intera perché come sapete tutti voi l'intera costa calabrese è quasi di 800 chilometri quindi era un po' complicato fare un lavoro di questo tipo però ecco aver ispezionato aver come dire fatto questo focus su anche qui fatemelo dire uno dei dei tratti di mare più significativi qui sulla costa ionica è un elemento molto importante e quindi questo trasferimento di 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 know how reciproco voi che ovviamente ci mettete a disposizione questa piattaforma noi la disponibilità a fornirvi peraltro siamo in una fase monica in cui stiamo presenteremo agli inizi di giugno l'annuario sui dati ambientali su un po' su tutte le varie matrici acqua aria suolo rifiuti e quant'altro quindi può essere un'occasione ovviamente per ma di questo come vi dicevo prima ne parlerete più diffusamente domani anche nel merito di un'eventuale convenzione che dobbiamo costruire di collaborazione l'altra cosa che ci tenevo a dire questa è una bella occasione per raccontare quello che sta accadendo anche qui da noi sul sulla sulla vicenda che riguarda la tutela di questo straordinario patrimonio che la calabria noi siamo molto contenti avete visto ieri sono state pubblicate state pubblicati i dati sull'istituzione delle nuove bandiere blu per il duemila e ventidue e la calabria si arricchisce ulteriormente di altre due new entry caolonia e isola caporizzuto che si aggiungono a tutta un'altra serie di comuni e della costa tirrenica dove fra poco mi sposterò io perché oggi dice l'arrivo del del giro d'italia a scalea e lì c'è una eh forte valorizzazione adesso parlo da presidente del parco di tutti i comuni dell'asse costiero cosentino che sono all'interno del parco e quindi abbiamo chiesto alla RAI di fare una bella puntata su questi borghi e su questi eh dicevo e poi c'è questa straordinaria costa ionica quest'anno Gianni Papasso lo lo sa il sindaco e anche molti amici qui del territorio è partito un'azione che non era mai stata fatta in Calabria perché noi non possiamo più tollerare che quando si arriva agli inizi del mese di luglio questo mare che in questo momento è splendido anche noi in questi giorni Monica noi stiamo facendo come tu sai per obbligo dei del ministero della salute la campagna di balneazione se oggi vi dovessi dire anche i dati parziali se facciamo ed escludiamo esclusivamente Gianni solamente alcuni punti vicino alle foci dei fiumi perché lì purtroppo il problema non è la costa è quello che arriva anche dal dal crati in questo caso e sul crati purtroppo ci sono una serie di affluenti negativi che arrivano e lo inquinano e quindi poi è chiaro che tutto si riversa qui a Sibara alla foce ma devo dire che se in questo momento io vi dovessi dire i dati sono dati che sono dal punto di vista della straordinarietà e dell'eccezionalità incredibili perché siamo oltre il novantaquattro nantacinque per cento di balneabilità eccellente quando voi voi sapete eccellente buono sufficiente insomma scarso quindi i dati che mi forniscono i tecnici che anche in queste ore stanno facendo i prelievi lungo tutto la costa calabrese ci consegnano questi dati ovviamente sono dati che poi sono legati solo alla verifica di quei due elementi che sono legati alla tutela della salute delle persone però sono da poi quando arriva a fine giugno luglio soprattutto in alcuni tratti della Calabria nel Tirreno Cosendino nel Tirreno Lametino e nel Tirreno Vibonese e in poche parti dello Ionio questo voglio dirlo in pochissime parti dello Ionio arrivano come dire queste ondate di inquinamento che purtroppo poi creano problemi quindi creano anche guasti non solo all'ecosistema marino ma c'è un problema che riguarda anche danni enormi all'economia di questa regione al turismo di questa regione perché la gente che vuole passare le vacanze da noi vuole passarle anche in una condizione di mare di salubrità ecco sotto questo aspetto dicevo è partito una campagna molto importante devo dire voluta direttamente anche dal presidente della regione dal presidente Occhiuto perché ha istituito una cabina di regia in cui finalmente la regione in primis col suo dipartimento ambiente le procure della Repubblica anche qui guardate c'è un salto di qualità nel senso che le procure hanno capito che è inutile che arrivano a Sibare e sequestrano il depuratore al sindaco Papasso e poi il depuratore continua come dire a svolgere una funzione inquinata no hanno capito che bisogna mettere in campo anche un'azione di di prevenzione quindi le procure l'ARPACAL naturalmente a noi si è aggiunto l'istituto Andondorn l'istituto zoologico Andondorn e ovviamente le capitanerie di Porto e stiamo facendo abbiamo quest'anno abbiamo sperimentato un tratto di mare che è quello che va da Tortora fino a Nicotera perché era impensabile che si potesse fare un'operazione su tutti gli ottocento chilometri di costa però su questo tratto Gianni credo che tu hai visto nei giorni scorsi anche i dati che hanno dato i giornali alcune iniziative anche dei carabinieri sono venute fuori Monica dei dati che ci consegnano purtroppo un sistema depurativo che deve essere da questo punto di vista enormemente migliorato sia sul piano tecnologico sia sul piano dell'adeguamento per le pressioni antropiche che alcune realtà hanno durante il periodo estivo e in altri casi questo è il dato purtroppo drammatico mi dispiace dirlo in una nostra in questa nostra regione che dovrebbe vivere di queste risorse ma c'è venuto fuori tutto il tema legato allo smaltimento dei fanchi della depurazione che purtroppo come dire ci consegni un dato che è un dato che ci ha fatto riflettere tutti io vi do solamente un dato l'anno scorso sui dati Ispra barra camere di commercio in Puglia che è una regione che insomma più o meno ha una una costa più o meno come la nostra diciamo hanno smaltito legalmente trecento trentamila tonnellate di fanchi della depurazione il dato calabrese che il duemilaventuno ne abbiamo smaltiti solamente trentamila questo è un dato come dire che vi consegna una sorta di illegalità diffusa che c'è sotto questo profilo perché anche chi gestisce gli impianti che dovrebbe smaltire i fanchi correttamente evidentemente non lo fa allora noi abbiamo deciso non è azione di repressione figuratevi se i sindaci non possono non devono essere aiutati in questo anche sforzo che fanno però ci sono sindaci bravi come dire che questo lavoro lo fanno e cercano di far funzione perché sanno che hanno anche delle responsabilità dirette e ci sono quelli come dire che purtroppo come dire vivono alla giornata e questo non è più possibile perché poi il nostro mare cara Monica ci consegna quella situazione che tutti conosciamo a questo aggiungiamoci anche i fenomeni legati anche in alcuni casi a questa a questo proliferare c'è stata anche la polemica come sapete delle su delle alghe no che insomma dovute anche a questo eccesso di caldo ma anche a quello che viene scaricato a mare anche qui nitrati hanno fatto una in questa zona voi sapete che c'è l'agricoltura che vive molto purtroppo di pesticidi e di quant'altro se poi lo smaltimento non avviene legalmente viene tutto scaricato a mare o i frandoi che scaricano a mare diventa tutto più complicato allora ho voluto dire questo per dire Monica che questo come dire anche questa vostro lavoro e questa vostra piattaforma che avete costruito e che state costruendo per noi diventa importante perché noi vorremmo consegnarvi non solo dati legati alle matrici varie ma noi vorremmo che anche attraverso questa vostra azione perché voi siete anche una delle associazioni ambientali del nostro paese più significative quelle verso le quali come io nutro una grandissima come dire simpatia ma soprattutto per le posizioni perché avete un approccio voi legambiente insomma avete un approccio come dire che non è solo quello della denuncia che è giusto che ci sia che è giusto che ci sia ecco ma come in questo caso avete costruito un progetto che vuole avere degli interlocutori i comuni le arpa le province la regione istituzioni pubbliche stakeholder privati quindi da questo punto di vista io sono qui per dirvi che insomma apriamo un profondo rapporto di collaborazione e aiutateci anche in questo sforzo perché ripeto il tema della salvaguardia e della salubrità del nostro mare non è solo un tema di repressione o dei carabinieri con tutti rispetto io ho avuto anche difficoltà l'altro giorno a partecipare ad una conferenza stampa ed ero a fianco del generale dei carabinieri quando già tu sai che io vengo da un'esperienza politica diversa istituzionale ho fatto il sindaco come già cioè mi sentivo quasi in imbarazzo vi dico la verità no per dire allora noi dobbiamo trasformare questo sforzo che si sta facendo in un aiuto al quale tutti dobbiamo concorrere voi avete messo bandiera su questo territorio io mi auguro che questo progetto possa avere anche un respiro più largo per il futuro come dire allargando gli orizzonti anche ad altri tratti della nostra ma però questo prototipo che avete creato qui nel golfo di Corigliano e qui a Sibali in particolare potremmo farlo diventare anche un modello poi da esportare anche in altri punti altre realtà della nostra regione ripeto nel merito della della convenzione del rapporto come va costruito domani ci sarà qui il mio direttore scientifico insieme a lui Monica costruite come dire tutto il percorso che è giusto da costruire avendo lui avuto da parte mia come direttore generale un input diciamo favorevole per mettere su ed inviandare un proficuo rapporto di collaborazione quindi grazie di cuore buon lavoro per queste giornate grazie per aver scelto anche questo nostro territorio e poi fatemi dire se avete tempo insomma a quattro passi c'è lo straordinario pollino quindi eventualmente se avete l'opportunità e l'occasione anche perché qui sarebbe troppo lungo e ho preso già molto tempo ma stiamo costruendo anche qui ormai Monica anche un progetto di sistema Gianni si è fatto promotore su tutto l'asse qui della costa ionica sibaritica di questo straordinario rapporto di relazioni che ci deve essere perché anche qui fatemi fare un passaggio sulla vicenda turistica anche oggi il turista che viene qui a Sibere in questi qui Sibere c'è uno dei villaggi che sono favolosi dove io per altro ho passato spesso le vacanze con la mia con la mia famiglia ormai anche il turista come sapete è abituato non a stare per quindici giorni sotto un ombrellone ma a vivere anche esperienze diverse e quindi noi stiamo provando a creare con gli operatori turistici di questo territorio ovviamente sotto l'eggita dei comuni anche un rapporto in cui ci possa essere un interscambio cioè il turista che arriva non solo il mare certo viene prevalentemente per il mare ma se poi può fare un'esperienza di raffiting nel straordinario fiume Lao o può andare soprattutto per chi ama gli sport adrenalinici e noi abbiamo realizzato da qualche mese in un comune del parco il ponte tibetano più lungo del mondo proprio l'altra sera avete visto era sul TG1 insomma cioè quindi si possono vivere anche esperienze diverse oltre a quelle diciamo tradizionalmente legate al patrimonio storico culturale al patrimonio enogastronomico e quant'altro è quello naturalistico quindi grazie ancora per questa opportunità e soprattutto Monica da oggi c'è un costo costruiamo anche un rapporto più 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 stringente io sono a disposizione con la mia struttura poi Agostino un po' è sempre stato un po' il nostro credunione può continuare a svolgere sicuramente questo lavoro buona giornata a tutti grazie grazie direttore anche per averci presentato perché io non l'ho fatto stamattina ma è vero la nostra associazione si distingue anche per questo per fare denunce ma eh con l'obiettivo che è quello di migliorare l'ambiente ehm non di non fare le cose le cose vanno fatte vanno fatte bene e mh e quindi il forum ha questo obiettivo è quello proprio di scambiare dati e di metterli a disposizione di tutti proprio per migliorare eh dunque a questo punto io posso anche lasciarvi e quindi vorrei far salire sul tavolo Tommaso Franci e Mohamed ehm Baudran spero di averlo detto bene e nel frattempo vorrei salutare eh l'architetto Ferruccio Lione che ho visto che è arrivato che è presidente della Lega Navale di Sibari eh grazie per la presenza ehm ok Mohamed non so Baudran eccolo allora voi io scendoci vediamo vediamo sì 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 eh non so se facciamo parlare sì bisogna stare attenti a scendere eh dove mettiamo buongiorno buongiorno proseguiamo il nostro programma ora sono previsti ancora dei ehm degli interventi legati proprio al progetto Medfor IBM e al suo partenariato ehm credo che in forma online è previsto eh l'intervento di Irene Morello Rodriguez che è senior expert ambiente e climate change del joint technical secretary cioè del programma del segretariato del programma eh Eni CBC Med se possiamo se è collegata e possiamo dare la parola buongiorno buongiorno ah sì perfetto ok ehm buongiorno a tutti eh mi dispiace non non poter essere lì con voi I will I will change to english so everybody can also understand um thank you and I will try to connect my PC let me know if I will try to connect my PC let me know if it's okay I will try to connect my PC let me know if sì 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 tutto apposto perfetto grazie ehm it's a my pleasure eh it's also a pity that I I am not able to be there and 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 share with you these two days of exchange that is so important for the project and especially after a pandemic where we are all longing for having this kind of uh of meeting so this is why I would also thank you from the side of the of the project of the program and for the project um monitoring because uh all the work that you made to have this meeting is very appreciated and I would like that that you have a nice meeting during these two days and I was I would like just to do a short intervention to present you the program because not everybody is um on the knowledge of any CBC Med and also the new program interreg next met that is now under evaluation and will uh be launched very very soon it's now you can find it now in the web and um okay eh I will present you the any CBC Med um can you see the whole screen yes yes okay um um okay and the program um started in 2014 even the calls were done later but the joint operational program was adopted on 2015 with 209 million of EU contribution and 14 countries involved um with Algeria um with Algeria uh Egypt France Greece Israel Italy um Tunisia I will show you later a small map uh the principles of the program are the partnership the ownership and the common benefits but especially the cooperation between all the countries uh European or not European um the region of Sardinia uh has and hold the managing of the authority of the program there are also two branch offices one in Valencia and another in Agapa and there is also a GTS which is in charge of the technical assistance which I'm part of three calls were launched until now and uh four thematic objects objectives and principles are um are hosted one on business and small medium enterprises another on technical transfer and innovation social inclusion and environment and climate change on the side of the environment I would say that is also a transfer transfer and universal um thematic that is also included and embedded in all the all the projects here you can see the area I would highlight the Algeria that was uh marked in green as they adhere to the program but did not sign the financial agreement in the next uh interreg um program which is the name of the program of the of the of the new program that will start is they are supposed to include and the work has been done so they can also sign this financial agreement as well as Turkey that will also enter into the into the program these are good news so we could also cooperate with two more countries in the Mediterranean side uh three calls were launched one on strategic and the last one on capitalization met for EBM is one of the standard projects that were granted and nowadays 80 projects are currently under implementation um you can see the different uh kind of of progress in the web page and here I would give you a a short uh view of the projects that are in priority 4.4 on integrated coastal zone management they are co-evolved for blue for blue growth uh common on marine litter met for EBM as you already know and the tool on capitalizations that are in Ceres enhancing social ecological resilience in the Mediterranean coastal areas and plastic buster cap which is a a project that comes also from the interreg met European family that now will capitalize also in other places of the Mediterranean and the work done together also with common on on marine litter in the web you will find more information on them and I will present you with a little bit to talk about also the future the new interreg next met program that will enter into force now is now entering but will probably have the new next cost next year 15 countries are now included as you say as I said before Algeria and Turkey are now part of the family with a budget that has been enlarged with 244 44 44 million euros and the external cooperation programs are now included in the interreg framework this is also to give more importance of synergies cooperating more with union for the mediterranean the interreg euromed program and the adrian and west met there are five policy objectives and two interreg specific objectives in this new interreg um programming 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 but for specific interreg next met i present you here the four um specific objectives that were selected that are p1 for a smarter europe po2 for a greener europe po4 for a more social and social inclusion uh europe and neighborhoods and the specific objective on better cooperation in this table actually this resume for the sake of environment i would present you here the the larger name of po2 which is also including greener low carbon transitioning towards a net zero carbon economy and resilient europe and its neighborhood by promoting clean and fair energy transition green and blue investment the circular economy climate change mitigation and adaptation risk prevention and management and sustainability sustainable urine urban mobility regarding the the four thematic objectives that are planned maybe you are not seeing here the the one that it's on integrated coastal zone management but don't worry don't panic it's also included actually the name have changed a little bit but it's on so24 the one that it's called climate change adaptation and disaster risk prevention because the large and expanded name it's promoting climate change adaptation and disaster risk prevention and resilience taking into account ecosystem based approaches so with this i would like to tell you and confirm you that you are on the right side the ecosystem based approaches and ecosystem based management are very uh considered in this program as one of the strategies and tools that can help a better governance in the mediterranean and also better cooperation to have maybe not a better environment but at least we are still keeping and working on on this to have places like the one that you are there that are preserved and the um ecologically functional at least um talking about the next calls that could be launched in the next future there are four that are program one also on standard projects another specific on green transition a third on capitalization and another on consolidation of projects well this is all from my from my side thank you everybody i would follow the two days meetings from the distance but i wish you a very successful meeting from the gts and the whole any cbc met program thank you thank you thank you grazie irene allora diamo la parola a maria luisa lo savio che è responsabile del la parte nazionale di governance del programma della regione puglia che è collegata online se è connessa si ci sono buongiorno buongiorno mi vedete mi vedete mi sentite sentiamo perfettamente ma non vediamo però io ho disattivato il video non so perché non mi vediate adesso adesso ah no non vediamo non si vede no non è ancora vediamo vediamo la regia se ci possono aiutare perché io mi vedo nel mio video non so perché voi non mi vediamo sentire ti sentiamo perfettamente va bene lasciamo magari che sia la regia ecco a posto grazie eccoci qua buongiorno prima di tutto ehm e buongiorno a tutti i partecipanti mi presento sono maria misalo savio struttura regione puglia struttura speciale per la cooperazione territoriale io vi ringrazio per l'invito a partecipare abbiamo aderito volentieri l'invito era dedicato al national contact point però ehm è impegnato oggi in altre attività e in ogni caso vi porto i suoi saluti Claudio Polignano ma porto anche i saluti del della mia direttora Annelisa Berlingerio e del mio dirigente Giuseppe Rubino allora ehm il mio compito oggi è eh di dare un overview del funzionamento della governance nazionale qualsiasi programma di cooperazione che abbia regioni italiani partecipanti ha una propria governance nazionale ehm è importante abbiamo ritenuto insomma che fosse importante portare anche questo punto di vista in quanto ci sono situazioni progettuali anche in fase di redazione proprio di una proposta progettuale in cui è fondamentale l'apporto informativo nazionale io faccio parte di un team regionale che eh nel complesso si occupa proprio di governance nazionale adesso provo a condividere lo schermo ho preparato una presentazione che sarà mia cura mandare poi agli organizzatori per la divisione vediamo un po' se si vede sì benissimo eccoci qua vediamo se riesco sì ci riesco un attimo ecco benissimo quindi ehm qual è un breve breve brevissima introduzione sulla governance nazionale della CTE per il periodo quattordici venti l'Italia come tutti sappiamo partecipa a ben diciannove programmi di cooperazione territoriale chiaramente a geografia variabile quando parliamo di di regioni di aree territoriali regionali si è reso pertanto necessario definire una governance nazionale dei programmi CTE al fine di eh rispettare fondamentalmente in primis le norme nazionali e poi quelle comunitarie pertinenti che sappiamo essere tantissime ed assicurare così anche una gestione efficace ed efficiente della partecipazione italiana all'obiettivo cooperazione territoriale europea la governance nazionale e quindi ehm gli organismi nazionali individuati si occupano per esempio di cofinanziamento nazionale circuiti finanziari nazionali recupero di somme indebitamente percepite monitoraggio capitalizzazione revisioni con revisori contabili nell'attuazione dei programmi CTE con o senza digi italiana che coinvolgano anche un elevato numero di regioni italiane per il periodo quattordici venti sono stati istituiti comitati nazionali pertanto hanno un comitato nazionale programmi adriano spazio alpino central europe il nostro eni mediterraneo espon interact interreg europe italia croazia med and quali sono i compiti del comitato nazionale in primis concorrere alla definizione a definire l'indirizzo il coordinamento e la valutazione strategica per l'attuazione nazionale del programma definire la posizione nazionale da assumere in merito alla programmazione attuazione del programma quando un programma realizza una riunione di comitato di sorveglianza o di task force nella fase di scrittura di redazione del nuovo programma prima dell'incontro in italia si tiene una riunione di comitato nazionale che affida a presentanza poi dentro i meeting internazionali la posizione italiana che è stata precedentemente comportata ulteriore compito è sovraintendere allo svolgimento dei compiti assegnati al national point che poi riporta in termini informativi all'interno del comitato nazionale le attività che svolge e garantire ove opportuno e compatibile la continuità delle programmazioni che significa che come comitato nazionale noi siamo entrati anche nelle consultazioni nel decision making per la redazione appunto del nuovo programma next med ventun ventisette la governance nazionale il cnn di med come composto la copresidenza del comitato nazionale è in capo al ministero per gli affari esteri e la cooperazione territoriale assieme alla regione puglia la vicepresidenza è della regione lazio e partecipano come autorità nazionali attive il dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del consiglio dei ministri e l'agenzia per la coesione territoriale il primo fondamentalmente per quanto riguarda la fase di programmazione il la secondo il secondo organismo l'agenzia nella fase di eh implementazione dei programmi quali sono le funzioni della regione puglia nell'ambito del programma e innanzitutto come abbiamo detto la copresidenza assieme al maeci al ministero degli affari esteri del cn del comitato nazionale di programma la regione puglia esprime il national contact point italia che appunto dicevamo il dottor Polignano ma vi mostrerò eh in seguito i dettagli un attimo perché ho perso la presentazione mi mi raccomando un po' i tempi perché stiamo un po' mi scuso ma no 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 c'è problema inoltre la regione puglia è la referente per la ricezione e lo screening dei dossier per la validazione degli auditor dei partner nazionali dei progetti quindi la parte eh iniziale all'interno del compro ehm il national contact point che poi è la cosa più importante che dobbiamo presentare oggi qual è il suo ruolo e questo serve perché eh si sta riaprendo la programmazione futura la prossima programmazione e quindi eh gli seconder italiani stanno già lavorando e stanno già immaginando una nuova progettualità allora dicevamo qual è il ruolo e la responsabilità del national contact point informare i potenziali beneficiari delle opportunità di finanziamento esistenti e insisterli con delle informazioni nella preparazione delle proposte progettuali nella ricerca partner e nella comprensione di specifiche regole di programma il national contact point sostiene la l'autorità di gestione nelle attività di informazione comunicazione e awareness rising a livello nazionale sostiene la DG il GTS e l'autorità nazionali nel follow app quindi nel monitoraggio delle dell'implementazione dei progetti sostiene la DG nell'attività di capitalizzazione a livello nazionale e assiste i beneficiari sempre a livello informativo durante l'implementazione dei progetti il contact point in Italia come dicevo è Claudio Polignano questi sono i riferimenti io poi lascerò naturalmente eh dicevo le slide per gli altri paesi c'è ehm sul website di programma nazionale di cui adesso vi parlo ci sono appunto i contatti eh in regione Puglia c'è anche il collega Giuseppe Aprile a cui inviare invece nel caso del processo di validazione degli auditor fondamentale importantissimo altrimenti il programma il progetto chiedo scusa non può certificare le spese anche ehm diciamo questa funzione espressa dalla regione Puglia i contatti sono questi i documenti sono disponibili a questo a questo link sul nostro sito nazionale eh le competenze generali del team a cui io appartengo della regione Puglia per la governance nazionale NIMED sono appunto governance della partecipazione italiana monitoraggio qualitativo e quantitativo e comunicazione social io vi invito a cercarci e web eh su Facebook e web nello specifico questo è il sito di riferimento ma anche qui vado veloce vi saranno date le sito. Un'ultima informazione prima di entrare un po' nel dato italiano della partecipazione al programma eh la collega ha detto che è ormai in fase avanzata la redazione del NextMed vi dico in più che ehm l'autorità di gestione ha aperto l'ultima consultazione per ehm pubblica appunto prima di candidare il programma presso la Commissione europea c'è tempo quindi fino al trentuno maggio per esprimere commenti e osservazioni sulla nuova strategia interreg in area mediterranea vi invito a farlo perché ehm ripeto il programma ormai è definito però è è fondamentale sentire eh la voce degli stakeholder. Il link dove trovare le modalità di partecipazione alla consultazione è questo qui indicato in alto. Che altro? La partecipazione italiana nel programma ENI CBC Med progetti standard quarantuno progetti in in totale di cui trentasei con partecipazione italiana. Devo dire che l'Italia si distingue non dico un terzo ma rappresenta quasi un terzo della partecipazione complessiva dei quattordici paesi al programma insomma. Sessantaquattro i complessivi partner italiani di cui ben quattordici sono le beneficiaries. Progetti strategici ventitré in totale di cui ventuno con partecipazione italiana. Trentasette ehm i complessivi partner sette sono o le beneficiaries. Progetti di capitalizzazione l'ultima collo ventuno progetti in totale dopo lo scorrimento della graduatoria. In tutti vi è la partecipazione italiana. Trenta sono i complessivi partner italiani di cui sei sono le beneficiaries. Vorrei che guardasse sempre perché mi sono stata sollecitata ad andare velocemente la ripartizione eh regionale dei progetti finanziati. È un dato che ritengo importante insomma eh questo per quanto riguarda gli standard projects. Quindi uno sguardo al al grafico. Questo sempre rispetto agli standard eh projects è il grafico che avrete modo di approfondire con la tipologia di partner eh i partner maggiormente coinvolti nel progetto o nei progetti standard sono organizzazioni no profit enti governativi di diritto pubblico ed enti regionali locali. Progetti strategici questa è l'infografica per la per quanto riguarda la eh ripartizione regionale quindi la presenza di organizzazioni regionali nei progetti e questo è il grafico relativo alla tipologia dei partner finanziati. Progetti di capitalizzazione il grafico della partecipazione italiana regione per regione e ehm la tipologia di partner italiani eh in progetti presentati e poi effettivamente approvati. Io vi ringrazio. Esco dalla presentazione. Eccoci qua. Eh quindi eh ricordo soltanto di ehm cercarci su Facebook come Governance Italiana Enimed di eh cercare il nostro e di andare a guardare il nostro sito web e soprattutto di partecipare come voce italiana all'ultima consultazione nazionale. Grazie ancora. Eh grazie a lei dottoressa. Grazie. E arrivederci. La presentazione sarà. Io spero di essere stata breve abbastanza ma volevo dare almeno alcune informazioni. No no sono informazioni importanti. Per gli stakeholder nazionali. Siamo sempre disponibili il National Contact Point è sempre disponibile. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Grazie grazie dottoressa. Eh purtroppo siamo un po' in ritardo e niente ehm do la parola a Mohamed Badran che è vice capo del settore cambiamento climatico di NDP Giordania che è il nostro leader applicante. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Speaker 2 começo tiriamo il comitato. Grazie anche. Alla prossima. Grazie a tutti. Doace alla prossima. I would like just to take this opportunity to acknowledge and deeply thank the efforts of ADT, our people partner, project partner too, as I remember them and all that actually, and their partners for their efforts to organize this event. And also to thank you all for the efforts you made in traveling to make it here at this event in person. This is one of our earliest, I mean, after the very, very first event of the project is one of our earliest events after the pandemic to be conducted in person. Just to reiterate what the previous speakers have said, the forum is a capitalization product of the MID4ABM project for regularly facilitating coordination and harmonization of conservation and sustainable development practices and for fostering dialogue between coastal management practitioners in the Mediterranean basin and beyond. While focusing on marine protected areas, the forum will act as a knowledge sharing platform on broader coastal zone management tools and methods, providing practical benefits to administrators and stakeholders concerned and will represent a regional training hub on these methodologies. With this said, the forum is not the only sustainable output of the MID4ABM project for databases serving for management decision support systems at three coastal areas on the Mediterranean Sea and one coastal area on the Gulf of Aqaba Red Sea are being established. While these systems are meant to make the complex coastal zone management easier through data gathering and analysis that will handle potential complex or potential conflicting interests establishing these management systems in itself is a real challenge. Data gathering, which is a real challenge as a real challenge, and this is a real challenge for the USHAQ research. Data gathering, which is a real challenge, which is a real challenge, which is the most or the costly part of the process, might be very common. ma data availability is not this may have different reasons at different parts in the world the mid for evm project therefore therefore focus on target areas specific approaches for data gathering putting strong emphasis on the national teams and the national stakeholders synergy with other actors and collaborating with other initiatives has been a key factor in this you and db jordan country office as the lead beneficiary has always been there to support any synergy that may lead to bitter information change sharing at any of the four project target areas particularly supporting project partners who faced difficulties to move forward with data gathering at a similar rhythm of the other partners also for its specific geographic domain domain the office had more interventions in jordan and has been keen to integrate mid for evm project activities with of activities of other initiatives concerned with the coastal and marine environment targeting real life effective management practices particularly we are engaging with the akaba marine reserve which has been officially registered in december 2021 also with the akaba science park initiative which is now being formed actually with climate change force national communication report with the stockholm plus 50 initiative for consolidating output serving the millennium sustainable development objectives with environment labels of the tourism industry particularly facilities namely the blue flag and most recently with the first regional project on global coral reef fund which is uh develop which is a sub fund of the green climate change fund actually uh establishing the gulf of akaba conservation and restoration initiative the lbc uh facing making the optimum use of the resources provided by the project at the national levels is the local human resources that must must be made available to get very well trained qualitatively and qualitatively our direct message to hear to the national teams manager and legal representatives is to please give the best support you can to these human resources resources so that they get very well added with the resources provided by the project the project during the project lifetime and keep them after the project ends so that these resources will keep serving your target areas and your communities on the long term basis and that information supported ecosystem-based integrated coastal zone management is a very long name becomes your routine regular management practice i look forward to witnessing interesting deliberations over the coming two days of the forum launch and wish the forum all success in its mission to serve sustainable coastal management objectives in the mediterranean basin and in the wider global ocean thank you very much Thank you very much Alla fine del pomeriggio parleremo della proposta di organizzazione, attività e obiettivi del forum. Per gli stakeholder locali, sottolino l'importanza per noi della sessione iniziale di domani mattina, dove proprio faremo un focus sull'attività svolta in questo territorio, interloquendo con alcuni importanti stakeholder locali del Golfo di Corigliano. E concluderemo poi alla fine della mattinata raccogliendo commenti, suggerimenti e proposte sulle prospettive di evoluzione del forum. Nel pomeriggio di domani avremo invece un evento che nasce, possiamo dire, come un primo momento di spin-off del nostro progetto, dove presenteremo e sottoporremo alle aree protette nazionali dell'Italia le opportunità della metodologia che stiamo sviluppando nell'ambito del progetto. E ora il coffee break, mi raccomando, cerchiamo di essere brevi perché i tempi, soprattutto per la fase successiva, sono molto distretti. Grazie a tutti.